la mono ammortizzatore, guardate come piscio olio una settimana prima di un'importantissima gara internazionale mondiale guardate va completamente a vuoto, scarico ha perso tutto l'olio come volete vedere dalla chiazza siamo tirati, andiamo a smontare questo mono e dovremo cercare dove qualcuno in fretta e furia per farlo ripristinare allora smontiamo tutto, scarico, telaietto, smontiamo cassa filtro, la sfiliamo cassa filtro direttamente dal carburatore mettiamo un bel tappo di carta nel carburatore e con la pistola pneumatica andiamo a rimuovere questo dado che probabilmente era 150 anni che non veniva tolto del mono, viti dei leveraggi, andiamo a rimuovere i leveraggi spingiamo fuori le viti del mono ammortizzatore, smontiamo tutto, ricordiamoci anche che già che ci siamo faremo anche una bella ingrassatura di tutta la situazione per avere i leveraggi diciamo al massimo del rendimento smontato il mono, lo impacchettiamo perché piscia olio da qualsiasi parte, ormai è verso in condizioni disastrose incelofanato dentro una bella scatola di cartone per non macchiare il furgone e lo porteremo in un posto che è scocchiali imbarazzanti inforcati, retromarcia e via portando chissà dove, spegniamo la macchina, Saronno, via Angelico numero 12 di fianco a VD Racing, adesso dove saremo finiti, VD Racing famoso, ricambista, motocross e motociclismo in generale della Lombardia, famosissimo in tutto, un e-commerce incredibile, eccoci da WS Suspension, la factory di Robert che qua prende in carico il mio ammortizzatore, lo toglie dalla sua impacchettatura diciamo a livello super pro che ho fatto smonta la molla, andremo a verificare la molla perché ho avuto questo terribile dubbio che la molla non fosse del carico adesso ho detto 57 volte molla, del carico giusto per il mio peso, visto la persona da cui l'ho comprata in precedenza un piccolo lavaggio volante per lavorare in condizioni ottimali di pulito, via il bladder tiriamo fuori l'olio, valutiamo il colore, i primi componenti, si deve capire, poi si inizierà, ecco che Robert prende degli appunti per farmi una taratura su misura in base alle mie esigenze, 24 ore dopo mi arriva un messaggio via Whatsapp il mono è pronto, i ricambi c'erano eccoci ritornati dal buon Robert WS Suspension, eccolo qua tutto pronto, tutto fatto, 24 ore dopo allora qua abbiamo il mono si, il mono è tornato come nuovo cosa gli hai fatto? ma niente, revisione, taratura, cambiato poi il tampone si sgretolava la bucola aveva lavorato male, della testina ha cambiato anche quella poi io faceva schifo, quindi tutto quello che riguarda la revisione e poi ho fatto una taratura appunto che ti dia un po' di sensibilità alle basse velocità su buca secca per non picchiare, un po' di sostegno dove serve e un ritorno bello corposo e comunque ti tenga la moto bella in assetto sempre e basta, adesso funziona ok, dammi il mio mono, perfetto dammi il libretto delle istruzioni user manual ok, perfetto, con questo sono a posto c'è scritto tutto, quindi a prova di idiota e se fai un po' che è una figa adesso è un caffettino ok, perfetto è un caffettino che è un po' lungo questo si sa schiumare un po' servizio completo da Robert certo sostituzione al mono ammortizzatore andiamo a rimontare, ritirato il mono da Robert DWS stiamo rimontando come potete vedere il mono ammortizzatore ingrassiamo il perno del piede dell'ammortizzatore e infiliamo dentro poi andiamo a sollevare livellamente il forcellone infiliamo anche la testa dell'ammortizzatore e avvitiamola andiamo a avvitare anche il piede di biella dell'ammortizzatore ingrassare i vitoni dei leveraggi ingrassiamo anche i leveraggi dove appoggiano in modo che non facciano frizione contro il sistema tutto ingrassato, bello, pulito abbiamo tolto anche i cuscinetti dell'interno lavati, puliti avvitiamo tutti i miei dadi chiave da 14, chiave da 17 e via stringiamo sia l'anteriore che il posteriore del biscottino come si suol chiamare in un certo qual senso, in un certo qual modo via il tappo dal carburatore in modo che non è finita la ganga all'interno del carburatore tiriamo giù la cassa filtro adesso andremo con una manipolazione degna della migliore ostetriche partorienti da accalzare nuovamente in maniera omogenea la cuffia, il manicotto del carburatore poi avvitiamo la vite appunto che stringe la fascetta stringiamo i dadi del telaietto andiamo a rimettere il silenziatore ponendo praticamente un bel dito di silicone bianco da draulica potete mettere quello nero, bianco, trasparente fa sempre lo stesso l'importante è che faccia tenuto non escano fuori i gas di sgarico da questo piccolo punto in cui potrebbero fuoriuscire andiamo a vittare tutti i dadi le viti da M8 del silenziatore stringiamole bene posizioniamo la sella in maniera diciamo al momento provvisoria e andiamo a fare il sag statico con i consigli di WS suspension sul bel manualino ci dirà di fare 35 mm di sag statico non misurato è ancora sui 40-45 andiamo un po' a lavorare col precarico molla fino a che praticamente il sag con la moto sollevata con la moto appoggiata sulle proprie ruote sia di 35 mm ok tutto a posto eccolo qua che contiamo come l'abaco umano siamo arrivati al punto giusto ci rimane solo che andare a richiudere la ghiera del mi raccomando usate un grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti